Ciao a tutti ragazzi, io sono Mariuccio, oggi siamo su Fortnite, siamo sulle Bedwars, siamo con Giorgia, Cristian, Giovanni Oggi appunto siamo sulle Bedwars, come sempre spero che questo video vi piaccia e vi lascio al video Ok raga, che facciamo, ci spariamo subito, facciamo, che facciamo? No, no, facciamo 5 minuti Ok allora, io mi prendo subito qualcosa di armi Ovviamente se volete giocare con i vostri amici a questa modalità, in alto c'è scritto il codice, come credo che tutti sappiano Ok allora, se in questi giorni non ho pubblicato video era perché c'è stato un po' di errori di wifi Quindi non ho pubblicato video, ho pubblicato solo ieri quello del porcellino Guarda, aspetta, mi ha tolto il cittadino in mano, con l'isola là Ok Sai con quanti materiali ci si arriva? Raga ma mica il puffer può scadere mentre uno è sul ponte, no? No, 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 perci Cioè non... No, non mi confia la sacola, mamma niente, ho appunto 100 di ping, tengo Giovanni, ti lasci qualcosa? Ogni quanto secondo? Ma non c'è scritto manco i secondi al mattone Ma il mattone spavano un altro, ne spavano solo uno Ah c'è scritto, 85 secondi Raga ma un attimo raga, devo controllare qualcosa Oh raga non vuole ancora sparare Chi? Giovanni Io raga non so che sei Io mi pare che sei nel rosso Ma è blu credo Il mattone Io sto nel giallo Il mattone posso prendermi Questo Ma qualcuno è entrato da me Ma dov'è? Oh No Ah eccolo Questo è carino Oh raga non vado a sparare Che ti ho sparato Ah ma che si è scritto Ma lo riesco a me a leggere Chi vuoi? Eh Quello che sto sparando Io sono dei verdi Cioè Giovanni quello con la testa infuocata Ah ok Ah io non ho capito che dovevo Quello con la testa infuocata E tu eri Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Allora In una partita scorsa Vabbè non scorsissima Cioè tipo Prima no? Mentre giocavamo c'era Giovanni Allora faceva sempre la stessa cosa Io ero praticamente Arrivava a 20 di vita E andava nel Andava nella sua base Ogni volta faceva così Si 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 Però non vuole far cadere Non vuole far cadere Non vuole far cadere Che armi fortissime Che armi fortissime Ma non è vero Forti Al pompa Al cerchino Questa è la stessa Mario non vede nella mia base Che lo so No ma non vuole fare cadere No Stai cercando di riprenderti Ma Cato Oh ooo ooo zitta oh ma quella toa base questa qua non è la tua base ah ok e vabbè rica ma io stavo Fk ma che cazzo fate eh vabbè Giovanni è verde no sono io Ma dove soit con i delegani che far svanцу d uns ma non vuole però tutti contro le donne dai dimetti io spara Giovanni Giovanni dove cazzo sei? stava nella sua base eh appunto se non c'hai niente sei più facile da grillare no? cioè mi sembra pure ovvio che vediamo da te credibile Giovanni cerca di tenersi in alto poi scende sempre in basso ok raga non vuoi spaccare sul ponte come abbiamo detto non è che io sto sul ponte è perchè Giovi ma sei così schifoso che armi hai? eh scusa AK Giovo buon panaceo e? e la pistolina vabbè allenarmi è già ma fa? scrive no rega mi sto laggando non posso giocare guarda mi uccide il seguico si prende le mie armi tutta sta roba perché io sto laggando guarda mi prende il progetto gliarigo Giorgia che sta distruggendo il resto di Giovanni oh malvagio che malvagio che malvagio mi ricarica solo il pompa mi sembra solo quello contro Giovanni Giovanni è buono no no sto cercando una pistolina non ho petto non so manco più rigenerato ma tanto qualcuno ha distrutto il mio infatti ha distrutto il mio dai non so non posso più rigenerare ma mi hanno distrutto mi hai letto tra 10 secondi sono tutti letti distrutti vabbè 3,2,1 ma che è salvarmi guarda si io sono morto anche io perché a me sono quindi siamo solo io e Giorgia tu me eh sì ma è un Giorgio 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 veramente Giorgio tu mi hai ucciso pure prima Giorgio pure prima Giorgio mi hai messo la sacca nooo no way ma prima mi rigenero io ma io mi rigenero la sacca ma come? ma no 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 ma quando hai letto il Giorgio? e non lo so io ragazzi ragazzi c'è la tempesta ma qual è letto è già? io non capisco ragazzi c'è la tempesta e adesso andiamo tutti in festa ma non capisco ma qual è? dove sta il tuo letto? Giorgio ragazzi non potremmo ah quello è il tuo letto non potremmo buttare la panetta la panetta dove vuol dire quella? vuol dire quello del rosso io che lì non lo so chi è a me? ma quindi Giorgio Cristiano è morto ah no io no ah no non lo voglio vedere Cristiano vai col ponte col ponte vada no guarda un po' col ponte un po' col ponte eh ma se Giorgio se muoio a pezza eh perchè tu non l'hai il letto nessuno ha il letto ora nessuno ha il letto nessuno ha il letto credo eh vabbè regà ha perso è solo il letto perchè perchè non si può giocare un attimo in Santa parte dentro questa casa nemmeno un attimo ma su quale su quale delle due l'isola è stata in quella di Giorgio o quello di Cristiano? per sapere un po' delle notizie ok notizie incredible mancano sette minuti alla sedia sei tutte e due nell'isola di Giorgio si o no? che ho perso? io ero vivo comunque io ero vivo ho fatto finta di essere morto però ero vivo volevo sapere dove stavate per venire a uscire perché nessuno di voi ne di voi due aveva letto non è vero io vabbè niente 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 raga ma ce la sei è successo ma raga qui siamo la creativa tutti e poi la venire e poi rientriamo io l'ho schicciata raga questo video può finire qua abbiamo fatto una bad worst evidentemente ho vinto Cristiano casuale poi vabbè iscrivetevi al canale lasciate like iscrivetevi anche al canale di Giorgia che si chiama eh si geargamer perchè ho vinto però vabbè geargamer iscrivetevi anche al suo canale ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto e poi e Giovanni sarà smetto l'obiettio e ciao